Serriocco, oggi ha voluto fare chiarezza sulla vicenda Naidi facendo capire che lei è una vittima di quello che è accaduto nelle ultime settimane? Io cerco di far capire, così come dico da diverse settimane, che con la Progetto Sport il sottoscritto di Vincenzo Serriocco non c'entra nulla. Sulla questione del fallimento, sulla questione della chiusura delle Naidi, Serriocco, la Sport Life non c'entra nulla, così come ieri ribadito dalla Mariani, oggi curatore. E questa è una cosa che dico da 10-15 giorni, nonostante ci sia stato l'evento del fallimento di due giorni fa. La Sport Life dall'8 di aprile è stata tirata fuori all'interno dell'impianto delle Naidi con una diffida da parte dell'amministratore unico della Progetto Sport, Livio Di Bartolomeo. Questi sono i fatti e i dati. Poi se Serriocco deve reinserirsi all'interno della Progetto Sport perché fa bene o piace a qualcuno, io la contesterò, la contesterò, mi incatenerò anche davanti alla regione, sotto i cangi della regione, dove fondamentalmente Serriocco con la Progetto Sport SRL e con purtroppo la situazione che annosa con la del fallimento del Progetto Sport non c'entra nulla. E' fallita ci sono diverse ragioni, nessuno si deve tirare indietro sulle responsabilità, da primis la regione perché è un impianto vecchio che spende più del 70% su per quanto riguarda le attività delle utenze, sul gas, la luce e l'acqua. Più volte è stata richiesta, quando io ero amministratore, presidente di questo consiglio di amministrazione, come professionista, più volte è chiesto alla regione di intervenire all'interno dell'impianto. Le risposte delle regioni sono state sempre vaghe o non ci sono state, quindi si trova nella difficoltà che io alla fine, nonostante la riduzione dei costi che ho potuto fare nella gestione di quei dieci mesi in cui sono stato presidente, più di quella riduzione non potevo fare. Oggi rinserirsi all'interno di un qualcosa in cui non c'entro nulla, capirete benissimo che dà fastidio a tutti ed è giusto che io faccia una conferenza stampa con forza, nonostante gli sforzi che stiamo facendo con la Sport Life vengono inseriti dentro. Noi abbiamo partecipato insieme ad altri, probabilmente non so il numero per quando c'è stato il bando, come la Sport Life. Oggi nella compagine societaria della Sport Life c'è la presenza mia, quella di Alessandro Sarni, come benissimo sapete. Abbiamo fatto la domanda, parteciperemo e vigilerò su che questo bando sia portato nel più breve tempo possibile a compimento e che si siano date le pari opportunità a tutti. Lei oggi ha approfittato anche per fare chiarezza su quello che è accaduto politicamente nelle ultime ore, che ha detto che non sono stato scaricato dall'Udc. No, assolutamente. È una decisione che già era difficile dopo la mia campagna elettorale alla Regione che comunque mi tira fuori e mi allontana dalla mia attività professionali e imprenditoriali. È un ragionamento che con il segretario regionale Enrico Di Giuseppe Antonio abbiamo fatto già da diversi giorni di quella di non presentarmi ma di mantenere lo stesso con il ruolo politico di segretario del partito a cui oggi gli articoli leggo scaricato dall'Udc, invece mi sento parte partecipe di questa campagna elettorale, sosterrò il mio partito che rappresento, così come ieri nella direzione ultima fatta con il segretario regionale abbiamo preso e ho preso questa posizione, sosterrò l'Udc, sosterrò la coalizione di centrodestra facendo una campagna elettorale non in prima persona ma come se fosse uguale.